bene ciao angeli ciao unicorni e ciao orcobaleni bentornati in un altro video questa è una stesura generica per la terza settimana di settembre 2021 quindi è quella che va dal 13 al 19 compresi come potete vedere questa volta non ho usato solo tre mazzi ma quattro ho aggiunto questo mazzo qui che sono le carte energetiche di barbara white fang ve le ho già presentate nel video della radiostesia ve lo lascio qui nella scheda i sono quelle basate basate sul feng shui quindi vi leggono l'energia degli ambiti vi danno indicazioni sull'energia degli ambienti ma io le adatto in base anche alle alla stesura e alle persone quindi se vi interessano sono in vendita potete vederle meglio nel video della radiostesia che vi ho lasciato qui vi lascio comunque giù in infobox il link del sito di barbara e anche il link di amazon in cui potete acquistarlo direttamente sia dal suo sito che da amazon vi ho già fatto una suddivisione in tre mazzi che andiamo a vedere tra poco prima di iniziare vi ricordo che essendo generica dovete prendere solo quello che vi risuona e lasciare andare il resto non può non potete rispecchiarvi tutti essendo generica potete scegliere ovviamente anche più di un mazzo se vi sentite attratti da più di un mazzo e vi chiedo gentilmente di lasciarmi un mi piace perché aiuta il canale e l'algoritmo perché dando un mi piace aiutate youtube a consigliare questo video anche ad altri non iscritti lasciatemi un commento dicendomi quale mazzo avete scelto e se vi risuona se vi rispecchiate iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella delle notifiche per non perdere per non perdervi altri video futuri giù in infobox trovate il link della mia pagina facebook se avete bisogno in privato e noi direi che possiamo cominciare passare alla scelta dei tre mazzi ecco c'è la scelta dei mazzi oggi non so perché sono stata attirata dalle conchiglie io dovete sapere che ne tengo un bicchiere intero io ovviamente raccolte io dalla spiaggia negli anni lo tengo sopra una mia mensola oggi non so perché sono stata attratta dalle conchiglie ho detto metto queste per come scelta del mazzo questo è il mazzo 1 mazzo 2 mazzo 3 non so se può essere un messaggio per qualcuno di voi ma poco prima di far la lettura stavo guardando una serie tv sulle sirene io non sono mai stata particolarmente attratta dalle sirene sapete che a me piacciono i vampiri e gli unicorni visto come vi chiamo però oggi sono stata spinta a guardare questa serie tv che tra l'altro è anche famosa e quindi sono stata anche attirata dalle conchiglie dal mare vabbè al di fuori che io il mare lo amo però non lo so forse c'è una correlazione per qualcuno di voi non saprei io ve lo dico ve la avuto lì allora il mazzo 1 questa splendida conchiglia più larga delle altre il mazzo 2 ha quelle che da noi si chiamano le torri però non so come vengano chiamate da voi e il mazzo 3 ha questa quella un po più classica più piccolina della torre un po simile a quella dei pauguri simile non uguale scegliete in base non alla conchiglia che vi piace di più ma al mazzo che vi chiama di più e se siete attratti da più di un mazzo ovviamente potete sceglierne anche più di uno ci vediamo tra poco con il primo mazzo eccoci qua con il mazzo numero 1 con questa splendida conchiglia di quelle che la versione più grande di questa sono quelle da cui potete ascoltare il mare avete presente comunque spero oggi abbiate meno riflesso perché non è sera al momento c'è un po di riflesso però meno del solito spero si veda meglio ecco partiamo dal dall'angel therapy come sempre e no avete riflesso anche qui ok forse così vedete meglio dunque angel therapy libri e potere di manifestazione questa carta era già uscita per il mazzo numero uno qualche stesa fa e dice lo scopo della tua vita ti chiede di scrivere leggere revisionare o vendere libri libri sulla spiritualità mentre questo e mi sa che tra l'altro era proprio copiata questa io giuro che guardate che le ho mescolate non è che sono le stesse dell'altra volta potere di manifestazione ovvero usa i tuoi doni spirituali e le tue capacità naturali per attrarre i risultati che desideri guardate come per ben due volte dice parla della spiritualità qui e anche qui sulla spiritualità quindi per alcuni di voi in ascolto mazzo 1 il vostro scopo centra con la spiritualità il vostro scopo di vita quindi probabilmente anche lavoro nella vita centra con la spiritualità vi dicono di manifestare i vostri sogni di credere nel vostro potere di manifestazione chakra del plesso solare vedete quanto giallo che è il centro del potere personale vi dicono di usare i vostri doni per manifestare ciò che volete ciò che desiderate che può essere anche l'inizio di qualcosa di nuovo di un progetto scrivere un libro scrivere un blog tradurre dei libri leggere mettersi a studiare tra un po parte la scuola l'università ma possano partire anche dei corsi ovviamente anche se siete persone adulte non c'entra l'età qualcuno di voi magari si mette proprio a studiare qualcosa di nuovo qualcosa che potrebbe di cui avete sempre avuto una passione ma ora volete trasformare in scopo di vita nel proprio nel vostro lavoro e dovete fare qualche corso qualche aggiornamento prendere un qualche diploma ed ha a che fare con la spiritualità ovviamente possono essere svariati le tematiche della spiritualità da reiki al teta al teta al non so la pranoterapia potete essere tarologo cioè fare le carte tarocchi potete essere radiestesisti qualunque cosa comunque parla di o scrivere per alcuni di voi ovviamente una stesura generica quindi a seconda della casistica o iniziare a studiare per poi trasformare quello che avete studiato nella vostra professione dunque qua per quanto riguarda l'esposto qui che forse avete un po meno riflesso per quanto riguarda l'amore dice alchimia e prima di tutto ama te stesso allora il rispetto di sé rende più romantici e più attraenti mentre qui dice c'è una forte attrazione magnetica tra voi due quindi per alcuni di voi il messaggio è che bisogna amare se stessi per primi e questa la carta prima di poter stare in una relazione non potete amare qualcun altro o essere amati quindi ricevere amore da qualcun altro se non avete amore per voi stessi non potete tra l'altro aiutare gli altri attraverso l'amore che non è per forza l'amore inteso romantico ma amore nel senso più ampio quindi amore per la vita amore per il prossimo l'amore quello incondizionato che è il più difficile da raggiungere se il vostro scopo come diceva qui questa carta è la spiritualità quindi magari aiutare il prossimo tramite l'amore universale incondizionato dovete però prima fare un lavoro su voi stessi prima di poterlo fare sugli altri e anche prima di entrare in una relazione ovviamente quindi vi dicono di lavorare su voi stessi amare imparare ad amare su voi stessi voi stessi scusate prima di poterlo fare sugli altri o di mettervi in una relazione per altri invece che già al passo l'hanno fatto vi dicono che tra di voi con il o la partner c'è alchimia c'è una forte attrazione magnetica tra di voi alchimia mi viene comunque non so perché ho pensato che l'alchimia comunque potrebbe essere uno un tema di studio per alcuni di voi l'alchimia comunque è per molti secoli è stata considerata qualcosa di come posso dire esoterico l'alchimia è esoterica la famosa pietra filosofale gli alchimisti eccetera quindi forse alcuni di voi vogliono iniziare a studiare proprio relativamente a questo tema l'alchimia prendete quello che vi risuona per alcuni in alcuni casi vi sta parlando della persona che avete conosciuto in altri sento che potrebbe essere la materia di studio andiamo a vedere cosa dicono gli unicorni ascolta i tuoi veri sentimenti ed esercizio fisico anche questa mi sa che era già uscita allora per ascolta i tuoi veri sentimenti dice non lasciare che gli altri ti convincano a fare qualcosa quando sai che è sbagliato o quando sai che è solo una perdita di tempo come fare un lavoro e magari molti di voi fino adesso l'hanno fatto che non vi piaceva che era un ripiego non era lo scopo di vita se continuano a dirvi ma se per caso qualcuno vi dice sapendo che magari adesso volete cambiare rotta iniziare un nuovo progetto qualcosa di nuovo nella vita aprire anche qualcosa di vostro perché no e vi dicono probabilmente perché la gente è invidiosa quindi deve sempre tirare giù dal piedistallo anche gli altri no deve sempre sminuire e far far sentire insicuri gli altri perché sono insicuri loro vi diranno ma no che sei matto sei matta non puoi non hai più l'età ma è rischioso di questi tempi poi ecco non ascoltate quello che vi dicono che la gente è contenta solo di vedervi fallire ma quello è un problema loro lasciate perdere queste persone voi se sentite che qualcosa è sbagliato e che invece un'altra strada è giusta per voi avanti col potere di manifestazione credete solo nel vostro potere non in quello che dicono gli altri vi invitano anche a e quindi per concludere seguite i vostri sogni ascoltate i vostri veri sentimenti e non e non le cattiverie o i dubbi altrui poi vi invitano a fare esercizio fisico ovvero corri cammina nuota o comunque muoviti ti sentirai più felice ed energico vi invitano quindi appunto a fare esercizio fisico che male non fa ma forse anche per schiarire le idee appunto da dalle negatività intorno a voi infatti stando nella natura potete purificare la vostra energia anche scaricare le energie negative che vi hanno messo addosso gli altri e sgombrare la mente dai possibili dubbi che gli altri hanno inculcato in voi qui vedo oltre ai campi e ai fiori anche le cascate questo è un arcobaleno è solo luce credo che sia un arcobaleno in realtà qua c'è tutto c'è acqua quindi cascate montagne e campi vi invitano quindi a stare in mezzo alla natura per schiarirvi le idee e vedere un quadro completo e più chiaro vedete che l'arcobaleno mostra la via perché è un ponte un quadro completo di quello che volete fare dei vostri progetti e manifestateli il potere di manifestazione più forte se lo fate durante la quando siete a contatto con la natura quindi perché no fate meditazioni e visualizzazioni di manifestazione durante le passeggiate o quando siete al mare o in montagna insomma quando siete immersi nella natura perché la natura vi aiuterà a potenziare il tutto andiamo a vedere cosa dice la carta energetica e guardate che bella fra l'altro che è infatti viola il colore viola è il colore della spiritualità e anche del terzo occhio quindi del potere di visualizzazione di creazione il vedere oltre il capire ciò che si vuole nella vita veggenza anche chiaro veggenza spiritualità in generale e abbiamo la prima carta comunque le prime carte dicevano che lo scopo della vostra vita è scrivere revisionare vendere leggere libri sulla spiritualità comunque la spiritualità è il vostro scopo di vita può essere in moltissimi campi non solo quelli descritti dalla carta ma ad ogni modo siete legati in maniera intrinseca alla spiritualità e potrebbe aiutarvi mi viene da dire mettere sul terzo occhio sul chakra del terzo occhio pietre viola tra cui l'ametista per vederci meglio perché no fate una visualizzazione con la pietra viola sul terzo occhio mentre siete nella natura per amplificare il tutto quindi questo erano questi erano i messaggi per il primo mazzo mi fate sapere nei commenti se vi risulta se mi volete dire del della vostra situazione vi ascolto volentieri noi ci abbiamo tra poco con il mazzo 2 eccoci con il mazzo numero 2 quello con la torre andiamo a vedere che cosa dicono per voi le carte quindi cominciamo come sempre dall'angel therapy vediamo se qua ok no stavolta mi sembra che non ne siano mai uscite tre neanche negli altri mazzi andiamo a vederle entrambe vi sposto di qua dove c'è meno riflesso allora abbiamo chakra del terzo occhio e depurati il depurati dice chiedi agli angeli di rilasciare tutte le energie tossiche che potresti avere assorbito c'è molto rosso qua e quindi anche molta infiammazione da quello che vedo questo depurati deve essere sia a livello energetico come c'è scritto qui sia a livello proprio fisico qualcuno di voi deve depurarsi sia a livello energetico perché siete probabilmente immersi in un ambiente energeticamente tossico con energie basse non buone forse anche può essere anche l'ambiente di lavoro non solo la casa e in altri casi può essere entrambe le cose per qualcuno di voi vi dice di depurarvi anche a livello fisico scusate il gatto a livello fisico nel senso che state mangiando in maniera regolata non salutare probabilmente troppo cibo spazzatura forse anche alcol può essere anche qualcos'altro come fumo sigarette e non o può essere anche qualche sostanza vi invitano quindi a depurare il vostro corpo perché lo state avvelenando vedete che sta creando un'infiammazione non solo a livello energetico proprio a livello di anche viscere in base a quello che mangiate e bevete ricordatevi che il corpo è il nostro tempio quindi va tenuto nel dovuto modo perché è il nostro spazio sacro l'unica dimora che abbiamo e di corpo ne abbiamo uno solo se lo se lo deterioriamo noi stessi e anche prima del tempo poi non ce ne viene dato un altro quindi vi invitano a prendere a prendervi più cura di voi e del corpo sia a livello fisico che energetico qui il chakra del terzo occhio vi dice è sicuro per te visualizzare l'energia dell'amore in tutte le sue forme come gli angeli le aure e le visioni quindi vi dicono di aprire il terzo occhio di anche in questo caso l'ha detto anche nel mazzo numero uno di fare delle visualizzazioni per attirare voi energie buone energie d'amore e allontanare da voi le energie basse che vi stanno che avete assorbito quindi oltre a depurarvi il corpo vi invitano a visualizzare cose positive e attrarre con la visualizzazione energie e cose positive per attrarre invece solo energie con vibrazioni alte e cose che nella vita solo quello che nella vita è giusto per voi può farvi bene come sempre vi vi invito a passare più tempo laddove possibile nella natura specialmente a contatto con l'acqua che purifica meglio di qualunque altra cosa specialmente se è del mare perché è salata e il sale sapete purifica ora abbiamo il gatto nel mezzo ma cerchiamo di farlo lo stesso allora a livello di scusa gatto a livello di angeli dell'amore vi dicono lascia il tuo ecco guardate come sono contrapposte lascia il tuo ex e matrimonio per lascia il tuo ex abbiamo è tempo di ripulire la tua anche qua di ripulire la tua energia andiamo a prendere l'altra carta ecco qua ecco da alcuni di voi cosa da cosa devono ripulirsi le energie tossiche che avete assalubito potrebbero essere appunto una relazione tossica che dovete chiudere o che avete appena chiuso ma non avete lasciato andare il vostro ex o la vostra ex ed è ora ben due carte vi dicono che è ora di ripulirvi perché avete ancora attaccato l'energia di questa relazione tossica e dannosa per voi quindi dovete proprio allontanare una persona e chiudere una relazione o lasciare andare se l'avete appena chiusa una relazione e l'ex perché è molto nocivo e tossico per voi questo per alcuni casi in altri casi invece vi dicono matrimonio che possi collegarsi sempre a questa lasciandare il tuo ex può darsi che alcuni si stanno proprio separando divorziando quindi in altri casi invece nel caso del divorzio della separazione vi dicono appunto di lasciarla andare perché magari vivete ancora nel passato siete ancora attaccati ai ricordi di quello che è stato perché chiaramente quando vi siete sposati e vi amavate e non volete lasciare andare quei ricordi perché vivete nel passato e nell'idea di quello che poteva essere ma che adesso non è e non sarà più quindi anche se con dolore è il momento di chiudere quella parte della vostra vita quindi questa situazione include il matrimonio perché poiché per alcuni di voi si tratta proprio di una separazione o divorzio in altri casi poiché è una stesura generica qualcuno sta per ricevere invece o sta per fare la proposta di matrimonio siete in una relazione che poi evolverà con il matrimonio andiamo a vedere cosa vi consigliano gli unicorni amore dai genitori e risate allora amore dai genitori tua madre tuo padre ti ameranno sempre con tutto il cuore mentre risate guardate che bella questa carta è hai bisogno di farti una bella risata qualcuno che aveva paura di non so del giudizio dei genitori per qualcosa forse una storia d'amore che non approvavano forse una scelta di vita che non approvavano fermo restando che siete sempre voi ai padroni della vostra vita e nessuno neanche i genitori visto che siete grandi e vaccinati ha il diritto di dirvi cosa fare quali scelte fare nella vostra vita detto questo vi rassicurano che anche se avete fatto magari scelte sbagliate i vostri genitori madre padre vi ameranno con tutto il cuore lo stesso e vi invitano a divertirvi di più e a farvi più risate perché avete bisogno di una bella risata quindi di uscire di divertirvi di stare con gli amici e di ridere di più energeticamente appunto andiamo a vedere cosa vi dicono questa è legata mi sa la separazione quella di lasciare andare l'ex sicco è del depurarvi di lasciare andare di pulire le energie infatti vedete che queste verde qui è rossa perché tossica e queste verde perché aiuta come simbolo nella guarigione ovvero è ora di mettere nel passato mettere nella scatola e chiuderla e quindi è una metafora del chiudere con il passato gli oggetti del matrimonio alcuni probabilmente vanno ad abitare via traslocano se non stanno più con il se hanno divorziato se non stanno più con il partner o la partner quindi state dovete mettere via le vostre cose fare i bagagli gli scatoloni e cambiare casa o deve andarsene il o la partner da casa vostra a seconda della scelta ovviamente per chi rimane comunque nella casa in cui avete vissuto con il marito o la moglie dovete mettere via gli oggetti del dell'altro o dell'altra e di riporle in soffitta in cantina dove vi pare ma toglieteli perché sono un'ennesima ancora energetica tossica del passato invece lo dovete lasciare andare nel senso che quei gli oggetti sono chiaramente legati alla storia che avete al matrimonio che avete avuto e sono in trisi di energia del passato che è tossica però dovete depurarvi vedete che infatti la scatola è verde il contrasto con il rosso è netto è un è un modo per chiudere ovviamente metaforicamente parlando però l'azione ha in sé per sé produce un effetto in voi anche psicologicamente mentalmente parlando l'atto di riporre di chiudere di mettere mettere via si riflette psicologicamente ed energeticamente sul chiudere con il passato quindi mettete via gli oggetti della persona che con cui avete chiuso e riponeteli fuori da casa vostra o comunque in un altro punto che non vedete con cui non vi imbattete ogni santo giorno che non vedete ogni secondo in cantina in soffitta e dentro a un garage dove vi pare quindi questo era tutto per il mazzo numero due quello con la torre mi fate sapere nei commenti se qualcuno se vi va ovviamente perché un tema delicato se qualcuno sta chiudendo una relazione se ha divorziato se si è separato insomma lasciatemi un feedback nei commenti per il mazzo numero due e ditemi se vi ritrovate a tra poco con il mazzo 3 ed eccoci giunti al mazzo numero 3 quello con questa conchiglietta qui andiamo a vedere che cosa dicono le carte per voi scusate sempre il riflesso an ecco qua ne sono uscite tre ad esempio di angel therapy me ne sono cadute tre mentre mescolavo per cui ne ho comunque tenute tre andiamo a vederle tutte e tre insieme allora sensibilità emotiva schermati eretaggio delle vite passate queste carte escono spesso ultimamente si vede che qualcuno che deve sentirlo più volte sensibilità emotiva dice onore rispetta la tua profonda sensibilità perché è un dono che offri a tutti noi lo schermati dice proteggi te stesso dalle energie ostili o basate sulla paura visualizzando un bozzolo di luce guaritrice intorno a te quindi qualcuno che dopo andiamo a vedere anche la terza molto sensibile emotivamente ma anche probabilmente alle energie si è sentito sopraffatto ultimamente un po attaccato e ha odiato un po questo aspetto di sé questa empatia forte qua vi dicono che però è un dono anche se a volte onestamente è molto difficile conviverci ve lo dico per esperienza e infatti qua vi dicono di schermarvi proprio perché siete così sensibili assorbite come spugne quindi le energie ostili purtroppo vi arrivano parecchio anche le sentite molto più degli altri e quindi dovete visualizzare un bozzolo di luce guaritrice intorno a voi può essere blu può essere dorata può essere verde può essere anche bianca ma dovete schermarvi e poi se siete in una situazione difficile particolare vi dicono che è un retaggio delle vite passate la situazione in cui vi trovate dipende da una vita passata chiedete aiuto agli angeli chiedete agli angeli di aiutarvi a ricordare imparare guarire dalle esperienze passate la sensibilità emotiva questo sentire dolore e paura è una lezione da imparare che non avete è un nodo che non avete sciolto una lezione che non avete imparato in un'altra vita quindi potete chiedere all'universo di impararla adesso di imparare e guarire quella parte di voi che sta soffrendo e di lasciare andare di modo da sganciarvi dal passato per quanto riguarda l'amore andiamo a vedere qui abbiamo risolvi ecco forse questa è legata alla vostra famiglia la lezione da imparare o della vita passata risolve questioni familiari e poi dice anche l'una di miele quanti matrimoni e lune di miele mi escono in queste carte provate a guardare anche il mazzo numero 2 mi viene da dire questo risolvi le questioni familiari perdone i tuoi genitori e la tua vita amorosa ne trarrà giovamento infatti la vita amorosa è subito nella carta dopo ovvero la luna di miele godi con gioia del tempo trascorso insieme in vacanza quindi qualcuno che deve imparare la lezione è una lezione legata probabilmente ai genitori un rancore un dissapore rimasto lì magari da quando eravate piccoli o potrebbe essere che siete voi genitori l'avete con i vostri figli è il momento di guarire quella parte quindi di perdonare perdonare nel senso di non che porgo l'altra guancia ma imparo la lezione e lascio andare perché così la vostra vita amorosa ne trarrà giovamento e potrete passare del tempo con il vostro lui la vostra lei perché no in una luna di miele settembre come giugno è il mese dei matrimoni quindi potrebbe proprio esserci una luna di miele perché magari vi siete appena sposati o siete in procinto di e potrete godere del tempo passati insieme in vacanza per chi si è già sposato o comunque non si sta sposando al momento ma è comunque in relazione passate del tempo insieme anche in un weekend come una vacanza un weekend lungo via via dai problemi della vita quotidiana per passare appunto un po di tempo insieme per rinnovare le energie gli unicorni vi dicono creatività e migliori amici oh che bella carta questa creatività vi dicono disegna dipingi pensi agisci in maniera creativa quindi vi invitano a tirare fuori la creatività che avete che avete in voi e sbizzarritevi potete disegnare potete scrivere potete leggere potete dipingere che ne so potete scolpire potete intagliare potete fare intrecciare qualcosa potete ricamare può essere qualunque cosa comunque vi invitano a dare il libro sfogo alla parte creativa di voi perché vi aiuta anche nel incanalare l'energia giusta e tenere la mente occupata e lontana magari da cattivi pensieri migliori amici ovvero i veri amici restano uniti sempre comunque qualunque sia il problema che state affrontando adesso che sia una questione familiare o forse vi vogliono dire anche questo per chi si sta sposando e ha paura magari che o magari siete voi che avete un'amica o un amico che si sta sposando e avete paura di non avere più così tanto tempo da passare con l'amico o l'amica come prima perché comunque i migliori amici per voi sono famiglia giustamente gli amici sono la vostra la famiglia che vi scegliete non sono i legami di sangue a fare la famiglia avete paura di perderlo o perderla avete paura di allontanarvi se voi o lui barra lei vi state sposando si sta sposando ma gli unicorni vi dicono che i veri amici nonostante a volte le strade della vita prendiate strade diverse nella vita e crescendo ognuno ha le sue di responsabilità e le fa le sue scelte nonostante ciò i veri amici restano uniti sempre comunque anche a distanza anche quando entra in scena un marito una moglie anche quando andate a vivere in un'altra città magari vi vedrete un po di meno ma il legame emotivo non si spezzerà e vi sentirete vedrete comunque i veri amici restano andiamo a vedere la carta energetica che vi dice acqua e guardate che nella luna di miele c'era infatti questa è venezia credo acqua non so se si legge molto bene c'è riflesso water acqua quindi probabilmente probabilmente dicevo alcuni di voi passeranno la luna di miele al mare questo è un mare ma può essere sul lago sul fiume può essere anche alle terme non è detto può essere può essere un hotel di lusso con una mega piscina sul tetto può essere venezia stessa perché no vi dicono che avrete a che fare con l'elemento acqua che anche l'elemento comunque dei sentimenti infatti luna di miele è l'elemento femminile l'elemento dell'emotività e potrebbe essere anche il vostro segno o del partner o la partner segno zodiacale d'acqua vi invitano a fare più attenzione a questo elemento anche a livello di feng shui quindi attenzione agli elementi di acqua nella casa dal vaso di fiori al frigo al bagno alla doccia magari potete anche dovete bilanciare un attimo probabilmente l'elemento acqua o la parte emotiva e femminile di voi anche se siete uomini nella vostra vita comunque vi dice di fare attenzione all'elemento acqua e comunque alcuni di voi ci passeranno proprio la luna di miele ci passeranno del tempo a contatto con l'acqua bene questo era tutto per il mazzo numero tre mi date un feedback nei commenti per favore mi dite se ditemi se qualcuno si sta sposando si è appena sposato ditemi su degli iscritti che si sono appena sposati e comunque lasciatemi un feedback iscrivetevi al canale mettete mi piace noi ci vediamo in un prossimo video io vi auguro la più magica delle settimane a presto unicorni ciao